Il progetto di fusione tra aeroporto di Salerno SPA e la GESAC crea un clima di fiducia, la strada maestra da percorrere. Così il vicepresidente della Camera di Commercio di Salerno, Giuseppe Gallo, commentando positivamente la fusione che ha portato ad una rete unica aeroportuale campana, con GESAC e aeroporto di Salerno SPA diventate un'unica società. La nuova compagine societaria regionale sarà operativa dal 1 novembre e proprio oggi, contestualmente, scade anche il bando per la presentazione delle offerte per i lavori di completamento della pista e dell'aerostazione. I lavori previsti ammontano a circa 25 milioni di euro. Il cronoprogramma prevede per l'autunno 2020 il progetto definitivo e poi per la primavera del 2022 il completamento della fase 1 dei lavori. Siamo convinti che questa era la strada maestra da percorrere e quindi siamo in questo momento entusiasti del fatto che la GESAC si sia fusa con l'aeroporto di Salerno Pondecagnano per poter portare uno sviluppo non solo turistico ma anche economico per il nostro territorio e per le nostre imprese. Abbiamo appreso da poco che ci dovrebbero iniziare alcuni voli privati che dovrebbero essere spostati da Capodichina qui. Certo è che quello che noi auspichiamo come CAMI di commercio è che l'Iter finisca, la pista venga allungata e alla fine si possa realmente portare un qualcosa di concreto su questo territorio dopo tanti anni di vicissitudini su questo aeroporto. Per il Costa d'Amalfi dunque presto ci saranno già i voli privati e charter attualmente gestiti da Napoli anche se c'è da registrare un ricorso dinanzi al TAR contro l'ampliamento dell'aeroporto di Salerno. E quanto scrivono alla nostra redazione alcuni cittadini ricorrenti direttamente interessati dall'imponente opera progettata e prevista dal Master Plan hanno da oltre un anno presentato e depositato presso il TAR Campania Salerno un ricorso avverso il decreto 36 del 2018 con il quale il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha decretato la compatibilità ambientale dell'opera chiudendo positivamente la procedura di valutazione di impatto ambientale. Il ricorso costa di ben 20 motivi che oltre ad evidenziare il preoccupante impatto dell'opera sull'ambiente e sulla salute umana dei cittadini di Ponte Cagnano, Monte Corvino, Pugliano e Bellizzi denunciano una serie di illegittimità del procedimento e delle prescrizioni del decreto dovute anche alla carenza informativa del Master Plan.